lo chiamavano sant'antonio perché si chiamava antoine e forse anche perché era un uomo vivace allegro scherzoso gran mangiatore e più gran bevitore e gagliardo cacciatore di serve nonostante i suoi sessant'anni suonati era un contadinone del paese di cou molto colorito largo di petto e di pancia e appollaiato sulle gambe lunghe che parevano troppo magre in confronto al suo corpaccione viveva da solo con una domestica e due servitori nella fattoria che dirigeva da furbacchione qualera curando bene i suoi interessi esperto degli affari dell'allevamento del bestiame e della coltivazione delle sue terre i suoi due figli uovi le tre figlie sposati bene vivevano lì vicino e andavano a mangiare con il loro padre una volta al mese la sua forza era rinomata in tutta la zona si diceva come se fosse un proverbio forte come sant'antonio quando venne l'invasione prussiana sant'antonio all'osteria prometteva di mangiarsi un esercito perché davvero normanno ne sparava grosse ed era un po' pauroso e fanfarone batteva il pugno sulla tavola di legno che traballava facendo saltare le tazze e i bicchierini e col viso rosso e lo sguardo pieno di malizia urlava con una falsa collera da uomo allegro qual era bisognerà pure che ne mangi per dio era convinto che i prussiani non sarebbero mai giunti fino a tanneville ma quando venne a sapere che erano aguto non uscì più di casa e dal finestrino di cucina teneva continuamente d'occhio la strada aspettandosi da un momento all'altro di vedere passare le baionette una mattina mentre stava mangiando la minestra assieme ai suoi servi s'aprì la porta e apparve padron chicot sindaco del comune seguito da un soldato che portava in capo un casco nero con la punta di rame sant'antonio balzò in piedi la sua gente lo guardava aspettandosi di vederlo fare a pezzi il prussiano si contentò invece di stringere la mano del sindaco il quale gli disse ecco teni uno per te sant'antonio sono arrivati stanotte soprattutto non fare sciocchezze dal momento che parlano di fucilare e di bruciar tutto alla minima piccolezza t'ho avvisato dagli da mangiare mi pare un buon ragazzo arrivederci vado dagli altri ce n'è per tutti e uscì sant'antonio era diventato pallido guardò il suo prussiano era un ragazzone grasso con le carni bianche gli occhi turchini biondo barbuto fino agli zigomi il quale pareva sciocco timido e buon figliuolo il malizioso normanno capì subito con chi aveva a che fare e rassicuratosi gli fece segno di sedere poi gli chiese volete un po' di minestra lo straniero non capì allora antoin in uno slancio d'audacia gli spinse fin sotto il naso una scodella piena e disse to butta giù questa maialone messo dato rispose io e cominciò a mangiare con ingordigia mentre il fattore trionfante sentendo di aver riconquistato la sua riputazione stizzava l'occhio ai servitori i quali facevano grandi smorfie provando a un tempo gran paura e gran voglia di ridere quando il prussiano ebbe mangiato la minestra sant'antonio gliene diede un'altra scodella che scomparve nello stesso modo ma davanti alla terza che il fattore voleva fargli mangiare per forza dicendo su via schiaffati in pancia questa roba qui se non ti strozza ti ingrassa vedrai maialone mio il soldato fece marcia indietro egli capiva solo che lo volevano far mangiare a sazietà e rideva contento facendo segno che era pieno allora a sant'antonio entrato in piena confidenza idea da una manata sulla pancia gridando se ne va di roba eh dentro il buzzo del mio maiale e all'improvviso si contorse rosso da sembrare che gli venisse un colpo incapace di parlare ecco ecco sant'antonio e il suo maiale eccolo il mio maiale i tre servi a loro volta scoppiarono a ridere il vecchio era tanto soddisfatto che fece portare l'acquavite quella buona tre stelle e la distribuì a tutti fecero alcuni brindisi col prussiano e questi per complimento fece schioccare la lingua per far capire che la trovava squisita e sant'antonio gli urlava sul naso questa è di quella buona al tuo paese maiale mio non la bevi di certo roba come questa da allora sant'antonio non uscì più senza il suo prussiano aveva trovato quel che ci voleva era la sua vendetta la sua vendetta da furbacchione tutto il paese pur essendo morto dalla paura rideva pazzamente alle spalle dei vincitori per lo scherzo di sant'antonio e a dire il vero egli non aveva l'eguale negli scherzi c'era solo lui capace di inventarne una a quel modo quel birbante andava dai vicini tutti i giorni dopo pranzo a brazzetto col suo tedesco che presentava allegramente battendogli sulla spalla ecco qui il mio maiale guardatene un po' come mi si ingrassa questo animale i paesani si rallegravano è divertente questo diavolo d'Antoine te lo vendo Cesar per tre pistole lo prendo Antoine e ti invito a mangiare il sanguinaccio io invece voglio i piedi tastagli la pancia vedrai non c'è altro che grasso tutti si facevano l'occhiolino però senza ridere troppo forte temendo che alla fine il prussiano non si accorgesse che lo prendevano in giro solo Antoine che di giorno in giorno si faceva sempre più ardito gli dava gran pizzicotti nelle cosce gridando non c'è altro che grasso e gran manate sul sedere urlando è tutta cotenna lo sollevava fra le sue braccia di vecchio colosso capace di portare un incudine dicendo ne pesa 600 netti aveva preso l'abitudine di far offrire da mangiare al suo maiale dovunque quegli entrasse insieme a lui era la grande gioia il gran divertimento di tutti i giorni dategli quel che volete ingoia tutto gli offrivano pane e burro patate guazzetto freddo sanguinaccio il soldato stupido e docile mangiava per cortesia contentissimo di tutte quelle premure si faceva venirli in digestione per non rifiutare e ingrassava sul serio la divisa ora gli stava stretta e questo faceva andare in estasi Sant'Antonio il quale ripeteva sai maiale mio bisognerà farti un'altra stalla intanto erano diventati ottimi amici e quando il vecchio per i suoi affari doveva andare nei dintorni il prussiano lo accompagnava di sua iniziativa per il piacere di stare insieme a lui la stagione era rigida era tutto gelato il terribile inverno del 1870 pareva che scagliasse tutti i frazelli insieme sulla Francia compare Antoine che preparava le cose alla lunga e approfittava di tutte le occasioni prevedendo che sarebbe venuto a mancare il letame per i lavori di primavera le comprò da un vicino che si trovava in bisogno fu convenuto che tutte le sere sarebbe andato col barroccio a prendere un carico di concime così tutti i giorni sul calar della notte si metteva in strada e andava alla fattoria degli Ule distante circa mezza lega sempre accompagnato dal suo maiale e ogni giorno dar da mangiare all'animale era una nuova festa tutto il paese accorreva come quando la domenica si va alla messa cantata però il soldato cominciava a diffidare e quando sentiva ridere troppo forte girava intorno sguardi inquieti che talora si accendevano di una fiamma di collera una sera quando si fu riempito a sazietà si rifiutò di mangiare un boccone di più e cercò di alzarsi per andare via ma Sant'Antonio lo fermò e ponendogli le possenti mani sulle spalle lo costrinse a sedersi di nuovo con tanta violenza che la sedia si schiantò scoppiò un uragano d'allegria e Antoine esultante raccogliendo il suo maiale finse di fasciagli immaginarie ferite poi disse dal momento che non vuoi mangiare berrai per Dio mandarono a prendere l'acquavite allo spaccio il soldato si guardava attorno con occhi cattivi però beve beve quanto vollero e Sant'Antonio fra il giubilo dei presenti gli tenne testa e il normanno rosso come un pomodoro con gli occhi fiammeggianti riempiva i bicchieri e trincava sbraitando alla tua e il prussiano senza aprir bocca mandava giù sorsate di cognac una dopo l'altra fu un combattimento una battaglia una rivincita a chi riuscisse a bere di più per bacco quando il litro fu scolato non ne potevano più tutti e due però nessuno dei due era stato vinto erano pari se l'erano battuta il giorno dopo avrebbero dovuto ricominciare uscirono esitanti e si misero a camminare accanto al barroccio di letame che i due cavalli trascinavano lentamente cominciava a nevicare e la notte senza luce si rischiarò tristemente al morto biancore delle pianure i due uomini furono presi dal freddo che aumentò la loro ubriachezza sant'antonio scontento per non essere riuscito a trionfare si divertiva a spingere il suo maiale per le spalle per mandarlo a finire nel fosso l'altro riusciva a schivare gli attacchi tirandosi indietro e ogni volta murmurava alcune frasi in tedesco in tono così irato che il contadino rideva a crepapancia infine il prussiano perse la pazienza e proprio quando Antoine gli stava dando un altro spintone rispose con un pugno tremendo che fece barcollare il colosso il vecchio allora infiammato dall'acquavite afferrò il soldato a mezza vita lo scrollò per qualche istante come se fosse stato un bambino e lo buttò di slancio dall'altra parte della strada poi soddisfatto del risultato incrociò le braccia per ridere ancora il soldato si rialzò rapidamente a testa nuda perché l'elmo gli era rotolato via sguainò la sciabola e si slanciò su compare Antoine nel vedere questo il contadino prese la frusta per il mezzo la sua grande frusta di bosso dritta, forte e pieghevole come un nervo di bue il prussiano venne avanti a testa bassa con l'arma tesa sicuro di uccidere ma il vecchio afferrò con la mano la lama che gli stava per spaccare il ventre la scostò e con l'impugnatura della frusta colpì duramente alla tempia il suo nemico e si abbattea ai suoi piedi atterrito, stupidito dalla sorpresa guardò il corpo scosso dapprima da spasimi poi immobile, disteso bocconi sicché no, lo rivoltò lo osservò per un poco aveva gli occhi chiusi un rivoletto di sangue gli colava da una spaccatura all'angolo della fronte nonostante il buio papà Antoine poteva vedere la macchia bruna del sangue sulla neve restò fermo fuori di sé mentre il cavallo col suo passo tranquillo seguitava a trascinare il barroccio che fare? lo avrebbero fucilato avrebbero bruciato la fattoria distrutto il paese che fare? in qual modo nascondere il corpo? selare la morte? ingannare i prussiani? sentì di lontano alcune voci fra il silenzio delle nevi allora si sgomentò e raccolto l'elmo ricoprì il capo della sua vittima poi lo afferrò per le reni lo tirò su si mise a correre raggiunse il carro progettò il corpo sull'etame a casa avrebbe pensato al da farsi camminava pian piano labbiccandosi il cervello senza riuscire a tovar nulla si vedeva e si sentiva perduto entrò nel cortile di casa sua brillava una luce in un abbaino la serva non dormiva ancora rapido fece indietreggiare il carro fino all'imboccatura dell'etamaio pensava che rovesciando il carico il corpo posato sopra sarebbe andato sotto nella fossa e fece dondolare il barroccio come aveva previsto l'uomo fu sepolto sotto il letame Antoine spianò il mucchio con la forca e lo piantò in terra lì di fianco chiamò il lavorante gli ordinò di mettere i cavalli nella scuderia e se ne andò in camera sua si mise a letto sempre pensando a quel che avrebbe fatto ma non gli veniva nessuna idea nell'immobilità del letto il suo spavento non faceva che aumentare lo avrebbero fucilato sudava dalla paura gli battevano i denti si alzò tremando non riusciva più a stare tra le lenzuola stesse in cucina prese dalla credenza la bottiglia del cognac e risali bevette due bicchieroni uno dopo l'altro zettando nuove brezza sulla vecchia senza peraltro calmare l'ambascia che lo torturava ne aveva combinata una carina razza di imbecille che non era altro ora camminava su e giù cercando qualche stratagemma o scusa o germinella e ogni tanto si risciacquava la bocca con una sorsata di tre stelle per mettersi un po' di coraggio nello stomaco e non riusciva a trovare nulla proprio nulla verso mezzanotte il cane da guardia una specie di mezzo lupo che si chiamava divoratore cominciò a ululare compare Antoine brividì fino alla midolla e ogni volta che la bestia ricominciava il suo ululio lugubre e prolungato un fremito di paura correva sulla pelle del vecchio si era gettato su una sedia con le gambe tronche inebetito non ce la faceva più e aspettava ansiosamente che il divoratore ricominciasse il suo lamento scosso dai fremiti che il terrore comunicava ai nervi nevicava sempre era tutto bianco le costruzioni che componevano la fattoria parevano grandi macchie nere l'uomo si avvicinò al canile il cane dava grandi strattoni alla catena lo sciolse allora divoratore fece un balzo poi si fermò di botto estette col pelo irto le zampe irrigidite i denti scoperti e il naso in direzione dell'etamaio Sant'Antonio tremando da capo a piedi balbettò cos'hai dunque bestiaccia e fece qualche passo avanti frugando con lo sguardo l'ombra incerta e fosca del cortile allora vide una figura d'uomo seduto sull'etame lo guardò paralizzato dall'orrore ansimante all'improvviso vide accanto a sé il manico del forcone conficcato a terra lo prese e in uno di quegli slanci di paura che rendono temerari e le persone più vili si slanciò avanti per vedere era il suo prussiano il quale tutto fangoso era uscito dal letto di immondizia che l'aveva riscaldato e fatto tornare in sé si era seduto macchinalmente ed era rimasto lì sotto la neve che lo imbiancava imbrattato di sudiciume e di sangue ancora inebetito dai fumi dell'alcol stordito dal colpo ricevuto esausto a causa della ferita vede Antoine e troppo intontito per capire fece una mossa per alzarsi ma il vecchio appena l'ebbe riconosciuto schiumò come un animale infuriato ah maiale maiale non sei ancora morto borbottò e ora volevi denunciarmi eh aspetta aspetta e slanciandosi sul tedesco tesi in avanti la forca brandendola come un'arancia con tutta la forza delle sue braccia e gli conficcò nel petto le quattro punte di ferro fino al manico il soldato si rovesciò sulla schiena emettendo un lungo sospiro di morte intanto il vecchio contadino tirando fuori l'arma dalle ferite gliela immergeva di nuovo un colpo dopo l'altro nella pancia nello stomaco in gola menando colpi come un forsennato crivellando dalla testa ai piedi il corpo palpitante dal quale il sangue usciva gorgogliando si fermò aveva l'affanno e respirò a grandi boccate placato dal delitto commesso mentre i galli cantavano nei pollai e stava per spuntare il giorno si mise all'opera per seppellire il cadavere scavò un buco nelle tame finché trovò la terra cominciò a scavare più giù disordinatamente in uno slancio di forza muovendo furiosamente le braccia e tutto il corpo appena la fossa fu abbastanza profonda con la forca vi fece rotolare dentro il cadavere e la riempì nuovamente di terra che calpestò a lungo poi rimise a posto il letame e sorrise vedendo che la neve alta completava il suo lavoro ricoprendo le tracce col suo velo bianco conficcò allora la forca sul mucchio del letame e tornò in casa la bottiglia ancora mezza piena di cognac che era rimasta sulla tavola la vuotò ad un fiato e si buttò sul letto addormentandosi profondamente si risvegliò lucido calmo e ben disposto in grado di giudicare l'accaduto e di pensare sul da farsi di lì a un'ora egli girava per il paese chiedendo dappertutto notizie del suo soldato andò a trovare gli ufficiali per sapere diceva perché mai gli avessero portato via il suo uomo siccome sapevano della sua amicizia non lo sospettarono egli stesso diresse le ricerche dicendo che il prussiano andava tutte le sere a correre la cavallina un vecchio gendarme in pensione che aveva un albergo nel villaggio vicino e una graziosa figliuola fu arrestato e fucilato